Brevemente, penso che si sia trattato oggi di una discussione veramente interessante, controversa, la cosa è preziosa perché non si sentono soltanto le cose che ci vanno bene ma anche quelle che non ci vanno così tanto bene. Sono state fatte varie domande, ci sono naturalmente due posizioni che sono state difese con vehemenza. A titolo di conclusione, per carità, non desidero utilizzare tutti i pochi minuti a mia disposizione. Non siamo soltanto obbligati nei confronti dell'ambiente ma soprattutto nei confronti del nostro contribuente. Naturalmente siamo obbligati anche a rispettare gli obiettivi europei che significano in questo settore quello di creare uno spazio dei trasporti europeo. Non possiamo permetterci una valutazione negativa o sbagliata di progetti piccoli o grossi che siano. Abbiamo bisogno naturalmente di portare avanti soltanto i progetti che ci aiutino a raggiungere il nostro obiettivo principale. Grazie a tutti coloro che hanno voluto partecipare alla discussione.